Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi grazie a Plyon Pictures parleremo di Winnie the Publa Denoni 2 o Sangue Miele 2 in italiano e ringrazio tantissimo i ragazzi di Plyon per avermi inviato questa Steelbook 4K più Blu-ray del film così da avermi dato la possibilità di recuperarlo tranquillamente. All'interno c'è anche un booklet con qualche informazione interessante e dichiarazioni del regista e in generale l'artwork della Steelbook è veramente carino. Vi informo naturalmente che se lo volete potete trovare il link di Amazon in descrizione, c'è anche la versione in DVD. Comunque in questo video parleremo solo del sequel perché del primo film ne ho già parlato con un video apposito l'anno scorso che trovate qui nelle schede. E questo film posso dire tranquillamente già dall'inizio è qualcosa di totalmente diverso da come mi immaginavo. Intanto il budget aumentato si vede come. Il primo film è stato realizzato con 100.000 dollari, questo invece con un milione quindi un budget decuplicato. E si vede in tantissime cose, per esempio anche solo, non lo so, il trucco dei mostri di questo film che non è più assolutamente un mascherone orribile di quelli visti nel primo. E questo ha anche dato la possibilità ai mostri e quindi agli attori di poter parlare e ci sono dei dialoghi molto interessanti. Vediamo in che senso interessanti fra poco. La domanda è come hanno giustificato questo cambio radicale di tono e di look in questo sequel? Bene, il primo Winnie the Poopla de Noni è un film nel film. Semplicemente hanno dato questa giustificazione che quel film che abbiamo visto l'anno scorso all'interno di quest'universo è un film tratto dalla storia vera successa a Christopher Robin qualche tempo prima dell'ambientazione di questo sequel. A cambiare non sono stati solamente il look e il livello tecnico nettamente migliorato, ma è cambiato anche il tono, perché fortunatamente sembra che abbiano capito che questo genere di film non può per niente prendersi sul serio. Il primo film si prendeva tantissimo sul serio e non aveva il minimo diritto di farlo, perché ricordo che stiamo parlando di Winnie the Poop Horror, e questo sequel sembra averlo capito sotto diversi punti di vista. Ho detto che è migliorato anche a livello tecnico. Non solo la regia o l'implementazione di una nuova cosa, non so se ne avete sentito parlare perché non sembra dal primo film di Winnie the Pooh la trama. C'è qualcosina che non mi convince tantissimo sul color grading, perché nelle scene in notturna per esempio mi sembra di aver visto semplicemente delle scene girate in di giorno con un filtro notte aggiunto, però vabbè sono comunque cose su cui posso tranquillamente chiudere un occhio. Le uccisioni presenti nel film sono nettamente migliori di quelle del primo, ci sono tantissimi effetti pratici, si nota tantissimo quando invece il sangue è fatto in CGI, perché è terribile, ma in generale il modo in cui le vittime vengono uccise da questi mostri è molto fantasioso. Sì, sono un po' morti in stile Final Destination nella maggior parte dei casi e quindi molto spettacolari e non per forza nel senso positivo del termine, ma quantomeno si vedono a schermo, cosa che nel primo film non succedeva poi così tanto, però anche dalle uccisioni si vede che dietro c'è un budget, ci sono un po' più di soldini. Stavolta non abbiamo solo Winnie e Pimpi a massacrare persone, si aggiungono anche Uffa e Tigro. Quest'ultimo sicuramente il mio preferito per l'approccio che ha con le vittime e il modo in cui le uccide. Ho apprezzato veramente tanto che qui i quattro mostri presenti siano dei palesi riferimenti a dei mostri cult o comunque villain cult dei film horror. Winnie è palesemente Jason Wuris da Venerdì 13, Pimpi è Leatherface da Non Aprite Quella Porta, Uffa potrebbe essere, non lo so, forse è quello che si addice meno ad associarsi a altri personaggi horror, ma potrebbe tranquillamente trattarsi di Pined da Hellraiser. E infine Tigro è palesemente Freddy Krueger da Nightmare. Forse è anche per questo che è il mio preferito. Diciamo che contribuisce a rendere il film come volevo, quindi un horror molto meno serio. Il nuovo Christopher Robin presente in questo film è nettamente migliore di quello visto nel primo, è interpretato da Scott Chambers che se non sbaglio dirigerà un film del TCU, Twisted Childhood Universe, parleremo anche di questo universo condiviso fra poco, e ovviamente l'attore è cambiato perché quello del primo film era semplicemente un attore, in questo modo potrebbero avere anche giustificato il perché facessero così tanto schifo a recitare. Dicevo che con questo film è stato introdotto un elemento di cui non si è mai sentito parlare nel primo film, ovvero una trama, una storia, una sceneggiatura. Tra plot twist interessanti e inaspettati e anche degli eventi che sono importanti per lo stesso TCU, non è neanche una storia così terribile, sì, abbiamo un plot twist un po' in stile Ryan Murphy American Horror Story, però è già qualcosa, è un passo da gigante in confronto al primo Winnie the Pooh Bladenoni. Tra l'altro il finale butta giù le basi per il futuro stesso del TCU, di cui faranno parte altri film dell'infanzia in versione horror. E posso dire dopo aver visto questo film che sono contento di aver dato una seconda possibilità a questo universo condiviso e mentirei se vi dicessi che non ho per niente interesse e curiosità per vedere Bambi the Reckoning, Peter Pan, Neverland Nightmare, Pinocchio and Strang e infine Puniverse, Monsters Assemble. Non vedo l'ora! Questo progetto mi fa cringiare tantissimo ma allo stesso tempo mi diverte e mi incuriosisce. Chiudendo appunto, per quanto mi riguarda promuovo questo secondo film di Bladenoni. Tra l'altro, piccola nota a margine, avevo già registrato questa recensione questo pomeriggio, adesso è mezzanotte e mezza del giorno dopo, quindi siamo il 20 luglio, giorno in cui arriverà su YouTube questo video, e l'avevo registrata solo che per errore poi l'ho cancellata e ho deciso di fare già subito il rewatch di questo film, infatti se andate a controllare sul mio profilo Letterbox sarà caricato ben due volte. E diciamo che il pensiero non è poi cambiato così tanto, anche con una seconda visione. Sicuramente il fattore che mi ha fatto valutare positivamente questo film è che non si prende sul serio ed era quello che volevo dal primo capitolo, solo che quello si prendeva maledettamente sul serio. Non stiamo parlando sicuramente di un capolavoro dell'horror, ma neanche di un bel film in generale, però è godibile, mi ha divertito per diverse cose, soprattutto le scene splatter e gore, tranne quando veniva utilizzata la CGI, e mi ha messo una genuina curiosità per il futuro del Twisted Childhood Universe, quindi hanno svolto bene il loro compito, almeno per quanto mi riguarda. Tra l'altro i look dei mostri in questo film sono spaventosissimi e li ho apprezzati veramente tanto. Ma ragazzi, se ancora non avete visto Winnie the Publad e non i due, vi invito a lasciare questo video perché gli spoiler inizieranno fra poco, però prima di lasciarci vi informo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd, X, e c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design e con il codice Il Pensiero 4 potrete scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e averle totalmente in modo gratuito perché sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma adesso direi di salutarci se non avete visto il film perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1. Come ho già detto, qui hanno giustificato il cambiamento di look, di tono e di tutto con l'espediente metanarrativo del film nel film. E con l'utilizzo di una trama quanto meno accettabile abbiamo un approfondimento maggiore del rapporto tra Christopher Robin e Winnie Pooh. E questa cosa mi è piaciuta molto anche se ripeto che è un po' un plot twist molto esagerato ma stiamo parlando di un film che fortunatamente non si prende sul serio quindi lo accetto. Winnie the Pooh è il fratello di Christopher Robin che anni prima è stato rapito da un inserviente di un ospedale per mano di Gallup, uno scienziato pazzo che ha unito i geni, il DNA dei bambini a quello degli animali. L'esperimento è andato un po' fuori controllo, ha dovuto uccidere questi bambini e li ha seppelliti nel Bosco dei Cento Agri in cui a causa di questo esperimento non sono realmente morti, sono resuscitate e sono usciti sotto forma di questi mostroni che abbiamo visto per tutto il film e quindi è questa alla fine la grande rivelazione della trama. In ogni caso dopo la resurrezione di Pooh e Company possiamo pensare che siamo andati incontro un po' a ciò che succede nei diversi film Disney quindi Christopher Robin che fa amicizia con la gang del Bosco solo che in questa versione ci viene appunto detto che lui ha di conseguenza eliminato dal suo cervello elementi di cui non poteva capire la natura quindi tutte le cose horror. Pooh Billy, questo è il nome del fratello di Christopher Robin, a fine film uccide anche i suoi genitori. Rimane in vita la sorellina di Christopher Robin che si chiama Bunny. Non credo sia un caso ma in questo film manca Tappo, il coniglio del Bosco dei Cento Agri, anche se credo che tornerà con il terzo film già annunciato. Poi parliamo dei crediti di questo sequel. Nel primo non compariva Tigro perché ancora il personaggio non era di dominio pubblico fino a gennaio 2024 però ovviamente non assomiglia per nulla alla versione Disney perché quei diritti d'immagine sono ancora riservati a Disney quindi non possono essere utilizzati però ripeto che a me Tigro è piaciuto tantissimo perché sembra veramente Freddy Krueger, rende il tutto molto meno serio offendendo pesantemente le vittime mentre le uccide e poi oh è una tigra assassina per me ha già vinto così. Sono un tipo abbastanza semplice. Come ho detto nella parte no spoiler le uccisioni sono veramente fantasiose e per lo più si vedono anche a schermo tranne la sequenza del party, del rave party, dei mostri il primo a morire è Pimpy quindi il leather face di non aprite quella porta perché comunque ogni tanto all'interno del film vengono fatte vedere delle sequenze spezzoni diciamo di altre uccisioni a parte quelle principali della storia. Ci sono i cacciatori ci sono padre e figlio che fanno bird watching e ovviamente il bird che vedono è Uffa che ammazza il padre e comunque Uffa è l'unico a rimanere illeso in tutto questo perché abbiamo appunto Pimpy che si fa sparare con un fucile in testa e quindi testa esplosa. Poi abbiamo Tigro che si fa sparare all'addome da Christopher Robin però non muore e infine abbiamo Pooh che si fa accettare dal fratello. Scusate il gioco di parole. E nella scena di morte di Winnie the Pooh c'è un grande grandissimo errore dell'adattamento italiano. Magari sto un po' esagerando ma adesso vi spiego. Io ripeto che ho visto il film sia in originale che doppiato in italiano la seconda volta e beh Pooh prima di morire prima di essere appunto accettato dice oh bother che sarebbe il nostro in Italia oh rabbia. Quindi effettivamente un riferimento una citazione al Winnie the Pooh Disney quello che dice appunto questa frase. Bene nella versione italiana doppiata e adattata in italiano credo che chi ci ha lavorato non abbia ben capito il riferimento e soprattutto non abbia ben capito a livello uditivo la stessa scena perché al posto di dire oh rabbia e quindi fare riferimento a quel Winnie the Pooh prima di morire questo mostro dice oh fratello. Quindi facendo uno più uno credo che chi ha adattato il film abbia sentito oh brother invece di oh bother. Distruggendo sia il riferimento ma anche la stessa sequenza perché in questo modo sembra che Winnie abbia compreso che davanti a suo fratello. Ma vabbè questo è solo un problema che mi sono autocreato perché per alcuni potrebbe anche non essere importante ma secondo me avrebbe avuto più senso stare più attenti in questo caso. A fine film comunque scopriamo che Ufa l'unico rimasto illeso appunto fa ritornare in vita i suoi amici perché dall'amicizia che nasce la loro forza. Con del miele quindi si ricreano le parti del corpo abbiamo la testa di Pimpi che inizia un po' a bollire per riformarsi. Questo nella post credit mentre nei crediti mentre scorrono i nomi abbiamo delle slide concept art del futuro del TCU. Infatti possiamo vedere Bambi che non credo sarà un bambino come questi di Winnie the Pooh perché accanto abbiamo delle scorie radioattive quindi credo sarà il risultato di contatto con roba radioattiva. Abbiamo poi un mostro enorme peloso gigante grasso con la proboscide che non ho riconosciuto quindi se sapete chi è magari fatemelo sapere con un commento qui sotto. Abbiamo poi Pinocchio da Pinocchio John Strang, abbiamo Peter Pan da Peter Pan Neverland Nightmare e infine abbiamo uno sguardo al Pooniverse Monsters Assemble. Oh sì ovviamente abbiamo anche uno sguardo a tappo che dovrebbe essere tornato a casa. Però ragazzi ripeto per chiudere questo video che sono veramente curioso di scoprire come andrà avanti questo Twisted Childhood Universe. Spero che andrà sempre meno a prendersi sul serio perché non mi aspetto minimamente un film in stile Avengers con i mostri dell'infanzia tutto serioso e per niente ridicolo perché è già ridicola l'idea in partenza. Ma ragazzi se avete visto il film fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Se volete fare spoiler mi raccomando scrivete grande spoiler poi lasciate qualche spazio e scrivete il vostro commento per non rovinare il film a chi ancora non ha avuto modo di vederlo. L'unico modo legale al momento in Italia è acquistare la steelbook o il DVD trovate i link nella descrizione. Ringrazio ancora tantissimo Play on Picture per avermi dato la possibilità di recuperarlo. In descrizione oltre al film ci sono anche i link importanti come i social, Instagram, TikTok, Letterboxdx e il link di Pampling codice ilpensiero4 per un paio di calze gratis a scelta. E niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!